e rieccoci qua ci siamo non so se sto inquadrando correttamente purtroppo non ho un buon riferimento con lo specchietto qui però qui la parabolina per ricevere sky 32 metri mi par giusto vero 32 32 ogni tanto ci si vede anche dal vivo oltre che nel gruppo sempre stiamo parlando della parabolina del centro radioastronomico di medicina una robetta da 32 metri peccato non poterla vedere in movimento però 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 qui c'è tutto la rai delle antenne bellissimo potrebbe filmare dall'alto purtroppo non è possibile anzi non ci si può neanche avvicinare tra l'altro perché se ci si avvicina c'è un allarme è una persona che ti dice vi state avvicinando è una cosa alla quale non potete avvicinarvi e diciamo che questo non è una regolazione nel senso che è un po' a sentimento anche di chi effettivamente è sul posto e decide lui è il numero uno bene per ora vi saluto tra un po' la visita termina e ci rivediamo poi in video in foto dal posto dove si va a mangiare con tutto sto gruppone ciao a tutti e sempre ben sintonizzati tanto per stare in tema con tralicci e impianti AFBF ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti